Disavventura per Brad Pitt alla prima ad Hollywood di Maleficent, l'ultimo film della sua compagna Angelina Jolie. L'attore è stato colpito in faccia mentre firmava gli autografi. Un uomo ha scavalcato la barriera, è corso verso Pitt e lo ha colpito al volto prima che gli uomini della sicurezza lo allontanassero. La polizia ha arrestato il molestatore, ma la coppia non è sembrata infastidita dall'incidente e ha continuato a camminare verso il cinema salutando i fan. Il protagonista dell'aggressione non è nuovo a simili imprese, si tratta di un reporter televisivo ucraino che ha molestato anche altre celebrità sul tappeto rosso.